Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 3 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Valanghe di quadrature sul weekend. Meglio una valanga di quadrature che di guai, tuttavia con la luna indebolita da Saturno e da Nettuno, già in lotta con voi, vi si prospetta una giornata tutt'altro che tranquilla. Opinioni totalmente discordanti col partner riguardo alla gestione della casa, voi avete il pallino delle pulizie, lui o lei vuol prendersi almeno questo domenica libero per fare una scappata in montagna o al lago a respirare pulita. Fondamentale almeno lavorare sulla fiducia reciproca, se qualche dubbio vi annebbia la mente chiarite immediatamente, anche a costo di tenervi il muso per un po'. Salute delicata, stomaco e articolazioni reclamano coccole supplementari. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e letigi, contrasti e zuffe. E un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Oggi fate buon viso a cattivo gioco senza mettere da parte la vostra personalità sincera e aperta, guadagnerete meriti agli occhi degli altri che vi saranno utili in alcune circostanze. Fate pulizia tra le vostre amicizie, soprattutto quelle sui social network, ricordate di dispensare confidenze solo a chi veramente conoscete bene. Riservatezza. Non sottovalutate i vostri interlocutori, sono più scaltri di quanto possiate credere e alcuni di loro cercheranno di mettervi in difficoltà per avere il sopravvento. Qualche piccolo disturbo fisico vi dovrebbe allarmare e decidervi per un controllo generale, anche i sintomi più piccoli non vanno mai trascurati. Staccate la spina e prendetevi una pausa di riflessione. Il vostro sentimento è stato troppo calpestato. Non dare retta a pettegolezzi di gente invidiosa o gelosa. Un amico ti difenderà. Potrai trarre benefici e vantaggi da tutte le persone che frequenti di solito giornata propizia e piacevole. Colpi di fortuna. Gioca e divertiti ma con moderazione. Sogni ad occhi aperti. Promesse d'amore che non manterrai o che avrai difficoltà a mantenere. Periodo ottimo per le decisioni importanti, ma meditatele a fondo senza precipitarvi. Poteste avere dei vantaggi concreti se prendete la decisione giusta. Piccoli screzzi in famiglia, soprattutto per i nati di martedi e venerdì, mettete da parte ogni screzio e siate decisamente più tolleranti e comprensivi. Orizzonte dei transiti odierni facilitato dalla presenza di Urano, vostro nome tutelare, che, dal toro dona un aspetto benefico al vostro segno. Il pianeta è pronto a darvi intuizioni folgoranti in ogni campo. Sarete però divisi, tra la famiglia e i mille stimoli esterni che, con grande impegno e infaticabilità, riuscirete a portare a termine, in specie al modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Il Mercurio, il Sole e Nettuno orbitano in angolo dissonante questa giornata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 6 al 17 del mese di settembre. Fate attenzione a non esporvi ai mali di stagione, come i classici raffreddori e le influenze, che, in questo periodo potrebbero essere piuttosto inaguato. Mattinata impegnativa con la luna in scorpione che vi vuole svegli di buon'ora per andare in montagna o portare snopi al parco, ancora freddo così presto. Ma apprezzate l'aria frizzante, tutta salute e tonicità per la muscolatura. Il malumore arriva nel pomeriggio col passaggio della bianca signora in quadratura, con la casa ancora in disordine mentre state sbrigando faccende, una scampanellata annuncia l'arrivo di amici e parenti, davvero imbarazzante per voi maniaci della pulizia e del bonton, farvi trovare in tuta e vestaglia, spettinati e affaticati. Ma quando si sgobba non si bada all'etichetta, ecco il commento di Plutone, ancora più veritiero per chi sarà di corve e per tutta la giornata. Amore ed Eros. Partner confusionario Quanto voi siete precisi e ordinati ma ormai ci avete fatto il callo, gli volete bene e in fondo sapete che vi completate. Rigorosi con i pupi specie a casa dei nonni con tutto il parentado che gli tiene gli occhi addosso criticando silenziosamente voi se combinano qualche guaio. E sì, avete le spalle grosse e per voi i vostri cuccioli sono perfetti, guai a chi tenterà di affermare il contrario. Un bel Giove oggi nel toro segno dell'Eros, è il Dio che vi spinge verso esaltanti conquiste amorose, specie se appartenete alla prima e seconda decade del vostro segno. Se siete single sarete ovviamente più facilitati nel mettervi in gioco, nel trovare gratificazioni al vostro fascino. Anche Urano è dalla vostra parte e vi consente un ottimismo e una voglia di sperimentarvi che quasi neanche voi stessi riconoscete. Lavoro e denaro. Vita sociale per quasi tutto il giorno, famiglia, parenti e magari anche qualche amico e per voi, introspettivi e tendenzialmente solitari intrattenervi con gli altri, chiacchierare, ridere, anche se non ne vedete il motivo, è più pesante che stare in azienda. Per chi è al lavoro battute poco felici all'indirizzo di un collega o da parte sua nei vostri confronti, sotto sotto anche dietro lo scherzo avvertite una certa animosità, forse invidia, perché i più bravi naturalmente siete sempre voi. Secondo giorno di marzo 2024 che vi vede in perfetta efficienza sia che abbiate una professione che si svolge in ufficio che un'attività autonoma. Chiudete le ultime incombenze della giornata senza affaticarvi. Benessere Fegato malmostoso, dopo i bagordi di ieri sera magari in occasione di un compleanno, vi ritrovate con la pancia gonfia e lo stomaco sottosopra, per certe cose non avete più l'età. Salute, dieta in natura un terzetto indissolubile e se di tanto in tanto il preptofano del cioccolato tenta anche voi è solo un antidoto alla malinconia, compagna non invitata di molte vostre serate. Per lei, voglia di abbellire casa con qualche idea nuova, se amate bricolare fate un salto in un centro specializzato acquistando materiali e strumenti. Per lui, chi lo dice che la fantasia è prerogativa femminile? Siete voi ora a partire con l'immaginazione, ipotizzando fascinosi rivali che fanno la ruota attorno alla vostra lei. Tranquilli, voi la fate meglio. Colore delle emozioni, giallo uovo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.